Volge il termine, una stagione positiva per Riccione, la Perla Verde anche quest'anno complice il clima favorevole di tante iniziative messe in campo. È stata meta preferita di migliaia di turisti, molti anche quelli arrivati dall'estero che hanno scelto l'ospitalità della Riviera. È indubbio che sia stata una stagione molto interessante, anzi se dovessi dare comunque un voto ritengo che sia un 10 al momento il voto che questa stagione si merita. Attendiamo i prossimi 20 giorni per dare l'eventuale lode. È un voto che chiaramente nasce dal fatto che abbiamo una congiuntura internazionale che ci vede sicuramente favoriti, è un tempo che è stato eccellente perché il clima ha concesso di poter andare al mare tutti i giorni, il sole è stato il protagonista e quindi diversi fattori ci hanno visto comunque avvantaggiati. Un altro aspetto legato a questo clima poco piovoso è stato che il mare quest'anno ha concesso una cristallinità direi entusiasmante perché anche le foto sui social di turisti al mare vedevano un'acqua veramente veramente bella. Molta gente è ritornata a Riccione, abbiamo avuto il ritorno di turisti che non ne vedevamo da tempo. Il dato nuovo è che sono arrivate anche molte famiglie con figli adolescenti, questo grazie anche al palinsesso degli eventi che a cominciare da DJ con DJ Hostage oggi è diventato a tutti gli effetti un prodotto turistico che determina anche le scelte della vacanza. Quindi sono tornati gli adolescenti a decidere dove andare in vacanza. Dicevo attendiamo questi 20 giorni perché in realtà è vero che abbiamo scollinato la parte più importante in termini di numeri che è il ferragosto ma andiamo verso i prossimi 20 giorni che sarà la volata finale che vedrà con il MotoGP alla fine della stagione alta.